Il nostro brodo viene messo su con del doppione, dell'osso buco, delle ossa, sedano, carote e cipolla e il cappone perché, a differenza della gallina, è un pelo più grassettino e il brodo viene più consistente e più colorito. Per poter scagliare il grana padano bisogna mettere la forma a temperatura ambiente per circa un'ora. Dopodiché va incisa la forma di un'inclinazione tale che entri nell'impasto in modo molto naturale. Non ricordo un Natale dove non ci sia stata la cassata a tavola. Mio padre in trasferta la faccio arrivare io a tavola perché non potrebbe esserci un Natale senza la cassata. La Befana era sempre il figlio del mio vicino che si vestiva da Befana. C'era la calza fatta a mano di lana che me la faceva la nonna durante l'estate davanti alle vacche. quindi la riempivano con i mandarini, le caramelle, i bagigi. Auguri di buon Natale dalla Sara di Flora Toscana. Auguri del fico. Antiauguri da Organic Quay. Auguri del fico. 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 Auguri del fico.